Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare tutte le espansioni e gli stretch goal usciti di Nemesis, gioco che ricordo essere della Waken Reams, che io colgo l'occasione per ringraziarli davvero di cuore per due motivi. Hanno creduto in me, mi hanno mandato, avete visto già Tainted Grail, Nemesis e spero anche i prodotti futuri, quindi li voglio ringraziare veramente di cuore perché ora insomma si inizia a festeggiare qualche mese della nostra collaborazione e sono sempre gentilissimi appunto, il secondo motivo perché ogni volta che li contatto anche per avere roba di Nemesis che ormai è già uscita dal Kickstarter e in versione retail non c'è, a parte il gioco basico che ora vi vado a descrivere, roba che in retail non si trova, avrebbero potuto tranquillamente dirmi questa roba non te la mando perché tanto non c'è bisogno di fare pubblicità a un gioco che già i baker lo dovrebbero aver ricevuto, l'hanno ricevuto o che comunque fuori dal Kickstarter non si trova. Quindi già che me l'hanno mandata per presentarla io li ringrazio di cuore e mi hanno sempre trattato, no con i guanti, ma con i guanti doppi davvero, quindi grazie a Waker Realms, è un onore collaborare con voi. Ora, quello che vi voglio mostrare oggi è la Terrain Expansion, che è questa qui, sono tutte quante espansioni, poi la scatola Aftermath e Void Seeders, che è la scatola dove ci sono tutti gli Stretch Goal, che ora tanto ve li faccio vedere, veri e propri, della campagna Kickstarter, e qui davanti vedete l'espansione Carnomorph, mi mancano l'artbook e lo scriptbook, lo scriptbook sarebbe con la specie di fumetto, che tra l'altro lo voglio trovare a parte, non me l'hanno mandato anche perché, vi ripeto, è roba che è finita, è roba che erano soltanto pledge. Quello che vedete qui davanti era l'intruder pledge, e ci mancano unicamente quel fumetto storia giocabile, in modalità campagna, bello, crea praticamente, lo rende ancora di più un film, che giallo è abbastanza di suo, Nemesis, e poi l'artbook, per vedere tutti i disegni. Ora, la scatola che vedete qui davanti è la versione italiana, quindi, per quanto questo sia l'intruder pledge, questa è la versione retail della Cranio Creations, se l'ho messa qui davanti anche per farvi vedere tutto insieme, ma tanto l'ho già recensito tempo fa, andatelo pure a vedere sul canale, comprensivo di un gameplay più tanti altri gameplay che verranno, perché oggi vi faccio vedere soltanto un unboxing e la roba che è arrivata, ma di ciascuna cosa, poi vi voglio far vedere, ovviamente, Terrain Expansion, no, perché ci sono solamente elementi scenografici in 3D, tipo le porte, le capsule, i salvataggi e cose del genere, ma di questa, con le sue regole, e di questa, con le sue regole, ci farà proprio di vita a parte, quindi oggi è soltanto un veloce unboxing e una presentazione. Mentre il gioco qui davanti è la versione italiana della Cranio Creations, versione retail, che si trova ancora in vendita tramite la Cranio, e ringrazio ancora una volta per avermene mandato una copia, e all'interno già c'erano altri stretch goal, perché già all'interno della confezione della Cranio c'erano, ad esempio, il meccanico, delle carte particolari, ovviamente il set di carte del meccanico, e altre cose, appunto, degli stretch goal. Se non erro, anche la plancettina di plastica, dove mettere le carte missione, obiettivo, qualcosa del genere. Comunque, nella Fatti Special, questa scatola qui, Terrain Expansion, all'interno ci sono tutti gli elementi scenici 3D, che ora vi vado a far vedere, che altrimenti nel gioco base erano cartoncini o token. Qua dentro, questa è la prima, è un box che comprende altri stretch goal, però è la prima vera e propria espansione, perché qui all'interno ci sono i Void Seeder, che sono dei tipi di alieni nuovi, e questa espansione qui, Aftermath, inserisce due cose per me bellissime. Qui, davvero, Nemesis merita di diventare veramente famoso, come Dead Space, o anche la saga di Alien, perché, giocando Nemesis normale, ci vediamo a bordo della nave Nemesis, che deve raggiungere la Terra, bla bla bla, l'avete visto. Nella, in queste espansioni di Aftermath, oltre ad inserire questi Void Seeder alieni nuovi, che non vi attaccano in corpo a corpo, ma vi fanno impazzire, vi si insinuano nella mente, tra l'altro fatti benissimo, e quindi questo gioco, questa espansione, introduce le meccaniche della follia, cioè una cosa bella, che effettivamente mancava che il tuo personaggio impazzisse in Nemesis, ora c'è anche questa meccanica, e in più c'è un'altra piccola mappa, che è una navetta, con cui questo equipaggio dell'Aftermath arriva sulla Nemesis. Nemesis trovata, magari, a vagare nello spazio, tutta incendiata, rotta, magari che sta per esplodere, e sono stati chiamati da un faro di segnalazione e dovranno scendere a bordo di Nemesis per scoprire cos'è successo. Quindi questo è il continuo di questo. Quando non avrete abbastanza di giocare il gioco base, magari direte, però sarebbe bellino l'idea che siamo tutti morti a bordo, magari qualcuno si è salvato, e arriva una nuova navetta per cercare la scatola nera della Nemesis. E questa è quell'espansione, però si porteranno dietro i nuovi alieni. E l'espansione Carnomorph, invece che vedete qui, sono altri tipi di alieni che potete utilizzare nel gioco, ovviamente, sia nella variante Aftermath che nel gioco base. Proprio sono mostri differenti. Ora, la figata, qual è di Nemesis? Che secondo me, l'Ela Wicked Realms ha giocato la sua carta migliore e ha fatto veramente poker, ha sbancato, perché nel gioco principale, tra molte virgolette, sembra Alien, sembra la Nostromo, nel gioco base, l'Alien e tutto quanto. Poi, lasciando stare le cose in 3D, qui hanno inserito dei nuovi alieni che ti si insinuano nella mente, meccaniche horror, quindi ci hanno messo anche un po' di Cthulhu come ambientazione, o perché no, ci hanno messo questi alieni un po' demoniaci che ti si insinuano nella mente e ti portano alla follia pura, al terrore puro, che ricordano anche un po' il film Event Horizon, quindi hanno preso un po' anche da lì, o comunque queste specie di alieni particolari, non prettamente fisici, ecco. e i Carnomorph, che sono praticamente ispiratissimi ai Necromorfi di Dead Space, quindi con tutta questa roba qui si sono presi tutti i fan dello sci-fi horror spaziale e vi dico una cosa, io ve l'ho sempre dito e ve lo ripeto ancora una volta, il mio gioco preferito, a parte Hero Quest, quindi dei giochi vecchi cult, è Deep Madness, perché mi garba come ambientazioni, come perine, come tutto. Il mio secondo gioco preferito, anzi, non è il secondo, è a pari merito con Deep Madness, quindi sono due preferiti, è diventato Nemesis, perché ragazzi, per i fan dell'horror spaziale, eccolo, cioè, comprate questo, basta, a posto. Vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro le scatole, a parte la scatola base. Unboxing. Questo è il Terrain Expansion, che è l'espansione più piccola ed era comprensiva nell'intrude del pledge, ma se non erro anche nel Captain Pledge, anche quello prima, comunque ci sono tutti gli elementi scenografici in 3D. Tra l'altro la scatola bellina, come disegno, vedete, molto cupo, che ricorda sempre un po' i corridoi dell'Anno Stromo, anche della Ishimura, e all'interno ci sono delle cose bellissime, tra l'altro fatte bene e pesanti, perché vi giuro, è una scatolina piccina, oh ma, qui un chilettino e mezzo c'è tutto di roba. All'interno ci sono capsule di salvataggio, guardate belle, come sono fatte, immaginate le dipinte, bellissime, dalla parte chiusa, seguendo le regole del gioco e quando si apriranno con la sequenza, la parte aperta con due slot per metterci sopra i vostri sopravvissuti e guardate, sono fatte veramente bene, poi sono proprio plasticoni belli duri, due pezzi davvero resistenti, interessanti, poi le porte, guardate belle, le porte in 3D del gioco, spettacolari, immaginatevele magari accese con una luce verde, una luce rossa, identificare che la porta è chiusa e bloccata e poi le artigliate degli intruder, guardate qui, degli alieni, mamma mia, spettacolare, per poi passare alla roba che c'è sotto e qui abbiamo i cadaveri degli astronauti che potrete trovare all'interno nei corridoi della Nemesis, vedete, questo qui è quello classico, vi ricordate, no? Quando all'inizio lo trovate nella sala nel Libernatorium e qui l'hanno fatto in 3D che è bellissimo, non è più un token e più ci sono proprio tutti quanti i personaggi morti, i vostri personaggi, quando il vostro personaggio muore vi ricordate che lì nel punto dove è morto bisognava metterci per terra l'equipaggiamento che il personaggio aveva lasciato cadere quando era morto e poi ci avete anche la sua raffigurazione in 3D di lui morto da mettere nel punto a punto dove è trapassato e anche le uova in 3D quindi le uova con la base sotto e queste qui sono le uova che dovrete andare a mettere nel nido quindi qua dentro ci avete tutti quanti gli elementi scenici in 3D a parte, vabbè, computer di bordo e quelle cose lì ho anche i motori rimangono sempre token in 2D però per tutto il resto avete tutta quanta la rappresentazione questa volta stampata in 3D tra l'altro di una qualità assurda per poi passare all'espansione Carnomorph dove per la prima volta viene inserita una nuova razza aliena quindi con tutto quanto il Kickstarter e gli Stretch Goal se avete preso tutto quanto anche Aftermath non avrete più soltanto un alieno che era l'intruder dell'inizio da affrontare ma ne avrete addirittura 3 che sono l'intruder i Carnomorph e poi i Void Seeders che secondo me sono geniali come idea però i più belli sono i Carnomorph e ora il disegno che c'è sopra ditemi voi se non vi ricorda una via di mezzo veramente da qualche incubo di Lovecraft oppure qualcosa la Dead Space apriamo regolamento di gioco le regole sono poche anche perché sono quelle del gioco di base non ci sarebbe bisogno di riassumerle un'altra volta di ripresentarvele però vedete c'è qualche paginetta dove introducono le nuove meccaniche e ovviamente anche le regole per inserirli nel gioco base la board dei Carnomorph come degli intruder tutti quanti i token vedete dietro i segnalini quando li dovete rivelare all'interno ci sono carte Carnomorph Adaption non ho ancora letto il regolamento e sono sincero quello poi ve lo farò più avanti appunto nel Cosa ne penso perché farò un video di ogni espansione io penso che questi Carnomorph siano delle specie della cosa di John Carpenter perché se c'è scritto Adaption penso che o si insinano dentro il corpo o comunque prendono le sembianze nascono sicuramente dal corpo di qualcuno dell'equipaggio e mi ispira da morire come idea nuovo mazzone di carte con dietro le carte Carnomorph Attack e ora per farvene vedere qualcuno ragazzi veramente fanno paura da quanto sono belle allora intanto guardate questo questa specie di ragnettino qui cioè è la cosa cioè questo qui è la cosa è quando gli si stacca la testa che gli escono le zampe diventa una specie di ragno bellissimo guardate questo Carnomorph qui che roba è cioè ditemi davvero voi se non è Dead Space immaginatevelo dipinto oppure anche questo ecco questi allora i Void Seeders sono più particolari ecco sono un po' più strani più eteri sembrano quasi più che alieni fantasmi dello spazio però i Carnomorph sono i più belli e sia chiaro ogni espansione mette le sue regole quindi il gioco cambia se giocate Nemesis con i Void Seeder o se giocate Nemesis con i Carnomorph non sarà mai con le stesse regole come combattere l'intruder e l'ultima che poi è la vera e propria espansione perché questa inserisce davvero del contenuto in più non soltanto cioè del contenuto già quello che avete visto prima è un grandissimo contenuto però queste sono proprio le regole per espandere il gioco non soltanto andando ad aggiungere una nuova razza lena e vedete che c'è la navetta Aftermath che sta arrivando e c'è la Nemesis che ormai praticamente è distrutta è prossima al collasse ed è lì che viaggia nello spazio e quelli che stanno per arrivare a bordo sicuramente cercheranno fortune e glorie ma ne troveranno ben poca è un po' come la richiesta di soccorso mandata dalla nave in distruzione a un altro tipo di nave infatti mi ricorda molto l'inizio del primo Dead Space disegno banale di dirvelo bellissimo apriamo e qua dentro ci sono tutti quanti il resto degli stretch goal quindi il manualetto di Aftermath sempre a striscetta larga con tutte quante le regole per giocare appunto all'espansione di Aftermath che ve l'ho detto anche se è piccola c'è un'altra piccola mappa da inserire quindi alla fin fine prolunga e allarga un po' il campo di battaglia poi abbiamo il manuale perché quello che vi ho fatto vedere prima è proprio dell'espansione il manuale dei Void Seeder perché li potete usare con Aftermath ma li potete anche usare giocando senza l'espansione Aftermath quindi nel gioco di base però semplicemente cambiano le regole soprattutto viene inserita la sanità mentale cosa che mancava assolutamente in un gioco come Nemesis e la follia ci deve essere oltre al terrore token delle torrette per quanto poi ci sono anche in 3D nuovo personaggio inserito il medico finalmente perché qualcuno che ti cura ci voleva non ti potevi affidare soltanto tutte le volte ai medkit e alle varie cose in giro per la nave poi abbiamo perché sia chiaro quelli che vedete qui sono i a parte il medico che è un personaggio del gioco base che lo potete riutilizzare ovunque ovviamente anche in espansione però tutto il resto che vedete sono il nuovo equipaggio di questa navettina che sta arrivando sulla Nemesis che sono l'Androide poi vabbè qui ci sono le stanze perché ve l'ho detto anche nella nuova mappa ci sono delle poche ma comunque ci sono delle stanze da visitare quindi abbiamo l'Androide non poteva mancare un androide in un'ambientazione spaziale che ricorda un po' Alien e qui invece abbiamo il il CEO non ho capito come si dice che è una figata che ricorda Peter Weyland di Alien Prometheus con dietro che cammina con un bastone non ce la fa stare in piedi con dietro un androide che lo regge vabbè ragazzi siamo a dei livelli assurdi Dio li benedica poi abbiamo la psicologa un altro nuovo personaggio e di qua un'altra figata di personaggio e di meccanica perché viene introdotto il bounty hunter il cacciatore di taglie lo stronzo passatemi il termine che lì soltanto per essere pagato e per farci dei soldi non gliene frega niente della missione magari anche scientifica perché no di avvicinarsi alla Nemesis ma lì soltanto per il suo tornaconto spettacolare ha un cane viene introdotto anche la pedina di un cane con delle regole particolari del cane suo e quindi lui ha anche un cane che lo segue passiamo poi ovviamente alla plancia dei void seeder ai token movimento e comparsa di loro tutti quanti gli altri token per i nidi le uova perché poi ogni razza aliena sia carnivore che quell'altra avranno sempre un loro e proprio nido e di qua abbiamo il convict che non so come si traduce comunque il criminale il prigioniero che è una classe questa è divertente perché sembra un po' ridica a parte anche il fisico tutto quanto vi ricordate il primo film Peach Black quando lui a bordo della nave lo stanno trasportando come prigioniero questo è un prigioniero e infatti lui inizierà l'avventura disarmato non avrà nessuna arma ed è bellino il ruolo che viene inserito poi ve lo spiegherò meglio nelle regole perché lui dovrà cercare perché lo sapete è un gioco di comunicazione non prettamente cooperativo cioè ognuno tira l'acqua al proprio mulino e i giocatori che andano a interpretare questo personaggio dovrà riuscire a farsi amico qualche altro giocatore quindi qualche altro membro dell'equipaggio a bordo della Nemesis per riuscire ad andare avanti perché lui inizialmente se non erro avrà delle manette quindi non potrà attaccare le cose del genere e soprattutto non sarà armato la nuova mappa della navetta che vedete qua giù anche questa ha un counter vedete qui quando viene attivato e poi ci sono delle nuove stanze quindi c'è la stanza del computer e una due e tre stanze e anche qui vedete ci sono condotti per quanto sia una piccola navetta ad attracco a corto raggio però vedete c'è anche la possibilità di far sponare alieni qua dentro quindi questa è proprio una mappa che dovete mettere accanto alla mappa principale e potete giocare sia su questa che su quell'altra mazzi di carte che non vi sto a far vedere tutti ovviamente perché ci sono armi ci sono nuovi equipaggiamenti le carte dei personaggi le carte dei mostri insomma le carte attacco dell'intruder sono sempre quelle qui c'è una clessidra che non so a cosa serva ma a breve lo saprò perché dopo questo video mi inizio a leggere tutto quanto per prepararci direttamente i cosa ne penso quindi sicuramente verrà inserita una nuova meccanica a tempo la clessidra fatta così mi rimanda ai tempi gloriosi di space hulk poi abbiamo la cosa più bella questo ragazzi vi giuro ora ve la faccio vedere è la miniatura più se non ci fosse stata questa all'interno avrei pianto lo space cat cioè il gatto spaziale appena l'ha visto mia moglie che è gattara sono gattara anche io siamo impazziti questo sappiate che nell'immagine è un gatto nero noi lo faremo rosso perché ovviamente per noi è Jones della nostromo e c'è il gatto spaziale con la sua tutina spaziale no vabbè fine vinto vinto a mani basse l'equipaggio della navetta come vi ho detto questa specie di Peter Whalen guardate bello col bastone e con l'androide che lo tiene in piedi da dietro e il tizio che vi dicevo prima secondo me il più geniale il mercenario con il cane cioè sono proprio separati quindi il cane può anche essere utilizzato per fare delle azioni o magari perché no attirare anche gli alieni e poi i nuovi Void Seeder che guardate questi sono alieni che mirano più che a sbranarti ucciderti a consumarti proprio a livello mentale quindi a farti morire a farti impazzire guardate bello cioè ucciderti proprio celebramente guardate che miniature cioè la qualità ragazzi è sempre no altissima di più qui veramente siamo a dei livelli mostruosi i loro nidi le loro uova che praticamente queste sono davvero quelle di alien paro paro al 100% e la regola di loro di Void Seeder è carina perché quando ne uccidete uno subito ne spona un altro quindi quando uno muore un altro ne spona direttamente dal loro nido dalle uova quindi di tutto quello che avete visto ci farò un video a parte che poi sono due perché nel Terrain Expansion non c'è bisogno penso nell'espansione Aftermath e Void Seeder invece sì e anche nell'espansione Carnamore perché appunto hanno delle regole particolari quindi mancano soltanto se non erro lo script book e l'art book che le script book forse dovrebbero essere due sono fumetti giocabili che vi potete leggere e poi a un certo punto vi dice ok da qui inizia la missione è un po' proprio renderlo ancora più dargli una parte più uno sbocco più narrativo ecco mettiamola così in un vero e proprio fumetto da leggere giocandolo e poi il gioco base che io non ho in versione inglese perché non ho fatto il kickstarter questa roba che mi è arrivata già da qualche tempo però il gioco base ovviamente era comprensivo e poi quello che avete visto invece è la versione della Carnic Creations se devo dare un voto a per ora un po' sono da un voto alle regole perché quello sarà un video a parte per ogni espansione da un voto all'arte che hanno utilizzato per creare questo gioco all'idea ai contenuti agli stretch goal che poi calcolate una cosa tutta questa roba ai tempi del kickstarter non so se veniva sui 140 euro una cosa del genere ovviamente c'era da metterci spese postali ti poteva venire un 150 euro ma era veramente pieno zeppo di roba come poi è stato eguagliato soltanto sono i Drip Madness che anche lì ti ci mettevano guardate là gioco più se espansioni più personaggi speciali più artbook troppo arrivava il pacco lo faceva a portarlo in casa e Nemesis ragazzi Nemesis ha vinto non voglio togliere niente ad altri giochi del genere a parte che ce n'è pochi perché c'è soltanto Lifeform in questo genere qui che non ho ancora avuto modo di provarlo ma sono molto curioso però Nemesis ha vinto e non è non ve lo dico per cattiveria ma gli amanti dello sci-fi horror spaziale lo dovete avere assolutamente cioè vi strappa il cuore questo gioco qui perché già di base è Alien il primo con l'anno stromo poi qui vi ci mettono questi specie di alieni che tentano nella testa queste creature strane mistiche che ricordano un po' anche Event Horizon nel film di qua vi garba Dead Space no? questi alieni che si formano dentro di voi che magari vi corrompono e piano piano vi tramutate in queste specie di necromorfi cioè avete Carnomorph infatti guarda caso Necromorph Carnomorph ci siamo e poi ovviamente tutti quanti il resto degli scenari in 3D quindi anche le porte da vedere sul tabellone e una cosa che non vi ho fatto vedere ma che comunque è comprensiva sono le torrette perché nell'espansione Aftermath all'interno ci sono anche le torrette tipo le Sentrigan quindi proprio anche Aliens scontro finale se devo dare un voto all'opera per come l'hanno fatta per come l'hanno curata e devo fare veramente un complimento all'Awaken Realms come anche alla Dimension Games perché anche durante la campagna Kickstarter sono sempre stati lì a darti aggiornamenti a darti novità cioè ti tenevano sempre comunque interessato anche se da quando hai fatto il pledge poi è passato un anno un anno e mezzo hanno sempre tenuto veramente informati il loro baker come anche appunto quelli di Deep Madness la Dimension Games e con me si stanno comportando benissimo quindi non posso altro che veramente inchinarmi e ringraziarli quindi un voto complessivo a tutta quanta l'opera 10 su 10 però poi mi riservo magari questa regola funziona questa un po' meno questa mi è piaciuta quest'altra invece no quella è una cosa del cosa ne penso però di tutto quanto insieme di tutto quanto il pledge arrivato a casa ragazzi 10 non c'è veramente di meglio e difficilmente io vi sfido lo troverete comunque trovate in descrizione il sito della Waker Realms primo link più tutti quanti i nostri social fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima